Una volta I nonni, stanchi di raccontare le storie, dicevano Nassò la vera, sapata di puntea, vedi che è la punta? Ma poi, anche se i bambini dicevano sì, no, forse, loro non la raccontavano. Ma poi, anche se i bambini dicevano, Nassò la vera, sapata di puntea, vedi che è la punta? C'era una volta un signore che aveva tre figli, Giovanni, Giuseppe, Antonio, che erano poveri, 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 e disse a loro Andata a cercare la fortuna Il papà gli dà tre cose Un setaccio a Giovanni Un gallo a Giuseppe E un gatto ad Antonio Il papà gli dà tre cose E un gatto adoro 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che fatica. Non ce la faccio più. No, non si toglie la busca col flunandro. Si toglie con setaccia guandate. Arrivano il principe e la principessa del castello di Cisterna. La voglio, la voglio! Quanto costa? Cinque mila lire. Giuseppe con il gallo va al canale fuori da una casa. Trovo un signore infredolito. Cosa fai qui? Devo svegliare il mio padrone. Se vado dentro mi addormento. Ma io c'ho un animale qui che fa chicchirichi. Chicchirichi! 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 Oh, fai chicchirichi! Il padrone sentendo il gallo si è svegliato. Che bello, voglio un gallo! Te lo prendo. Facci come la mira. Vedi, grazie. Grazie. Antonio è arrivato a Montà e trova una casa. Cosa fate? Io giro la polenta e ora ammazzano i topi. Cosa fate? Corri, mammella, corri! Corri, mammella, corri! Corri, mammella! Corri! Corri! Il gatto mangia tutti i topi. ce lo vendi? 15 mila dire grazie ciao aspetta che cosa mangia? mangia tutto cosa mangiate voi? ha detto cosa mangia tutto anche noi? la storia è finita così Giovanni Giuseppe Antonio sono diventati ricchi la famiglia con i topi ha riperso il gatto però ha ritrovato tanti bei topini come finisce questa bellissima storia? eeeh Giuseppe, Giovanni e Antonio cosa portano alla mamma e al papà? i soldi ciao mamma ciao papà ciao mamma ciao papà ciao mamma ciao papà ciao mamma ciao papà quanti soldi ha portato Giuseppe? 5 mila dire Giovanni quanti soldi? 10 mila dire Antonio quanti soldi? 11 mila di euro e alla fine cosa è successo? anza festa la festa a un gran spattuz i miei vada e da news un nome da padre da più anche a Monti in Galate è mia maggiacura sopra il suo patto a me e da davide in angolfia chi accontami a mia mia. Vi abbiamo raccontato una storia bella. Una storia bella. Vi ricordate quante cose abbiamo fatto con il grano, il grano turco, grazie alla storia di Giuseppe Giovanni Altano, con la storia dell'asilo che ha insegnato al contadino a pulire le viti. Abbiamo scoperto tutte le cose sul vino. Non parlare di quella della masca che abita vicino alla nusala, vicino al bosco dei bambini della costruzione. vicino alla nusala abbiamo piantato il blu marron. Poi, come sempre, abbiamo colorato e abbiamo contato. Abbiamo fatto finta di essere delle masche dei cavalli. una storia bella, nella tua cazuta di sicurezza, bella da 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 da, da 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 Siamo andati al posto del cammin Belli e tra punta, belli e tra punta, belli e tra punta, fumba, fumba, fumba Abbiamo piattato, via che di prima Belli e tra punta, belli e tra punta, belli e tra punta, fumba, fumba, fumba Lo abbiamo fatto con la scuola di maglia Belli e tra punta, belli e tra punta, belli e tra punta, fumba, fumba C'era anche un'altra partizione Belli e tra punta, belli e tra punta, belli e tra punta, fumba, fumba Ci va a portare il piano e il suo di me Belli e tra punta, belli e tra punta, belli e tra punta, fumba, fumba Poi siamo andati anche a coprare Belli e tra punta, belli e tra punta, belli e tra punta, fumba, fumba E arriva la patica con il suo drone Belli e tra punta, belli e tra punta, belli e tra punta, fumba, fumba, fumba Qualche giorno dopo abbiamo fatto il proprio piano di un bel don Belli e tra punta, belli e tra punta, belli e tra punta, fumba, fumba, fumba Sergio ha cercato tanti tattusi Belli e tra punta, belli e tra punta, belli e tra punta, fumba, 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 fumba L'unico al bosco c'è anche la gusara, preghi e raggiunta, preghi e raggiunta, preghi e raggiunta, fumatù. Allora la gusara c'è anche la masca, ma noi non abbiamo paura, preghi e raggiunta, preghi e raggiunta, fumatù. Noi sappiamo tutta la storia, preghi e raggiunta, preghi e raggiunta, fumatù. Nascolta vera, la faccia di tutela, preghi e raggiunta, preghi e raggiunta, fumatù. L'unico al bosco 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 L'umico al bosco La cabra vedola al postel de Calei E lui l'egnita che ha condentito di lei La cala è mia finita, ma lui l'è già partita La nostra galleria alla già morta un dì La cantà la cabra vedola al postel de Calei E lui l'egnita che ha condentito di lei 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 Aie na bella figlia Na bella figlia Anie An sulla finturin Soi pare la soi mari I verudin gran bene La veru maridera La veru maridera Giù vudi qui in desani Ciao Laura, cosa hai dipinto? Un pezzo rosso Un pezzo rosso? Ma chi è quella cosa lì? Quella signora lì o quel signore? Chi è? Mia mamma Tua mamma? Ma non dovevi dipingere la masca della Nusala? Sì E hai dipinto tua mamma? Sì E la masca dov'è? E' qui Cos'hai disegnato Diego? Diego? Dievino? Diego Groza? Diego? Pss pss Diego? Che belle Ma cosa sono quelle cose lì che state facendo? Io Cosa fai Flavio? Simona tu cos'hai disegnato? Cosa hai disegnato Simona? Eh? Flavio cos'hai disegnato? Il blu Cosa? Il blu Ma non dovevi disegnare la masca? Questa è? Le tis Questa? Tu Cosa hai disegnato tu? Cosa? Questa Ho fatto Hai fatto? Vai pure Tu cos'hai disegnato? Diego? Non lo sai? No E tu? Andrea cos'hai disegnato? Ho disegnato una masca della rosanna che fa il combattimento Andate a fare il disegno? Sì? Via Pronti? Via Cosa stai facendo di bello? Facciamo la nusala Fai la nusala? Sì E tu? Questo qua non c'è Tu cosa fai? Mettete Ginevra cosa fai? La nusala La nusala Francesco cosa fai? La nusala La nusala? E chi è la nusala? La masca della nusala La masca della nusala Sì Anche tu hai fatto la masca della nusala Dove l'hai fatta? Qui Oh che bello Ah È già finito E cosa hai fatto? La masca della nusala La masca della nusala Oh ma che bella Come fa la masca della nusala? Fa così? Sì Oh che paura E tu cosa hai fatto Emanuela? La nusala Nusala? Fammi vedere che bello Mmm E tu Arianna cosa hai fatto? La masca della nusala Stai facendo la masca della nusala? Sì Come fa la masca? Fammi un po' vedere con la faccia Come fa? Oh che faccia da masca della nusala? Claudio Tu cosa stai disegnando? La nusala? Adesso proviamo a fare le masche E cosa sono le masche? Le streghe Le streghe Sono le vecchie Allora Ognuno prende un culale E provo a fare una strega Eh ma non c'è nessuno da me Ti guarda E come si sente? Beh che troppo mi piace di più Mi sembra di delle streghette? Ma non c'è nessuno da me Ma non c'è nessuno da me O in pesca O dove ci diamo? Ma dove si sente? E adesso proviamo a fare le streghe Ok Come si muovono queste streghe? Queste masche Ma chi c'è lì dentro? Chi c'è? Chi c'è? Chi sei? Chi sei tu? Chi sei? Sei una masca Sei una masca Fammi una faccia da masca E poi chi c'è lì? E chi sei tu? La masca Ma com'è la masca? Fatemi le facce Oh che masche Buong'è la masca? Buong'è la masca? Buong'è la masca? Mi passà La masca La masca Ma ciò La masca La masca La masca La masca La masca La masca Buon Natale, Buon Natale, Buon Natale, Buon Natale. Chi sei? Sei Flavio? Sì? E cosa hai fatto? Hai fatto il topo? Va bene. Tu chi sei? Chi sei? Sei Lele? Sì, ve lo dici? Non me lo dici? E cosa hai fatto? Hai fatto il signore che ammazzava i topi? Sì? Non me lo dici? Sei silenzioso? Va bene. Ciao. Tu? Hai fatto il topo. Hai fatto il topo. Ma chi sei? Diego Grozza. Diego Grozza. Chi sei? Sei Matteo? No? E cosa hai fatto? Hai fatto il topo Lilo? Sì? Ma me lo dici? Che hai una bella vocina. No? Va bene. Ciao, ciao. Tu chi sei? E cosa hai fatto? Ammazzare i topi. Ammazzava i topi? Va bene. Ciao, chi sei? E cosa hai fatto? Il topo. Il topo? Va bene. Tu chi sei? Chi sei tu? Sei Melania? Sì? E cosa hai fatto? Hai fatto il topolino? Sì? Va bene. Vai pure. Tu? Chi sei? Dillo più forte. Simona. Simona, e cosa hai fatto? Hai fatto la signora che pulisce? Sì? Va bene. Ciao. Chi sei? Vieni. Vieni avanti. Chi sei tu? Dimelo con la voce forte come lo sai dire tu. Sei? 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 Sei Ginevra. Sei Ginevra? Sì, me lo dici? Eh? No? E cosa hai fatto, Ginevra? Vero che hai fatto la moglie di Ferdinando, del papà? Hai fatto la mamma? Sì. Va bene. E tu? Tu chi sei? Sei Diego, forse? E cosa hai fatto? Sei un topolino arrabbiato? Va bene. Ciao, ciao. Tu chi sei? Ho fatto il topolino. E chi sei? Francesco. Va bene. Tu? Guarda, io sono Andrea e ho fatto il topo. Va bene. Io sono Nede e faccio il gatto. Ciao. Io sono il signore che do a me. E ma chi sei? Il tuo nome? Simone Lucco. Sono Stefano che abbo la porta. Io mi chiamo Elena e mangio tutti i topi. Io sono Umberto. Che è papà. Ma papà come? Il papà dei bimbi. Di bimbi. Si chiamava papà Ferdi? Nardo. Io sono Betto. Che poi scopo. Io sono Riccardo. E il re di Cisterna. Ma proprio il re o solo il principe? Il principe di Cisterna. Va bene. Io sono Samuele Mò e ho fatto Giovanni. Io sono Antonio e ho fatto Antonio. Io sono Andrea e ho fatto il narratore. Io sono Lise e ho fatto Giuseppe. Io sono Giuseppe e ho fatto la ragazza che toglie la crusca della farina. Chi sei? Chi sei? Sei Sabrina? Sei Sabrina? Guido un po'. Che sentiamo la tua voce. Sei Sabrina e hai fatto la? Princi? Pessa. Pessa. Va bene. Io sono Emma e ho fatto quella che dirà la polenta. Io sono Sofia e ho fatto la ragazza che toglie la crusca della farina. Io sono Lorenzo e ho fatto il signore in freddo l'ito. Chi sei tu? Anna che facevo la signora che toglie la crusca. Tu chi sei? Io ho fatto la signora che toglie la puliva. E chi sei? Anna. Va bene. Io sono Elisabetta e ho fatto la signora che toglie la puliva. Chi sei? Chi sei? Sono Elisabetta e ho fatto la signora che toglie la puliva. Va bene. Tu chi sei? Chi sei? Sei Arianna? Sì? E facevi il topolino? Sì. Sì o no? Sì. Sì. Come la mamma fria tu? Come la mamma fria tu? Come la mamma fria tu? la città che a pulì, vuol dare a tutti voi. La cosa è di schia, con le casse che non si può più rostar, ma più sopra del faccia con noi, e se ne andiamo e ci andiamo, andiamo e ci andiamo, come andiamo, come andiamo, vuol dare, 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 vuol dare Grazie.